Vi ricordate quando per sbaglio avevo distrutto il rossetto della mamma di Manuel? Io me lo ricordo e anche mia mamma se lo ricorda Per farmi perdonare ho deciso di regalarle due rossetti Anche se non è lo stesso Infatti questa non è casa di Arianna ma è casa mia E adesso glieli consegnerà di persona Sei pronta? C'ho un po' l'ansia Devi, devi Mamma te lo ricordi il video? Certo, è lì, che rossetto era il mio Ari c'è qualcosa che vuoi dire a mamma? C'è un ruolo che ha detto Scusa, io pensavo fosse di Manuel quel rossetto Non posso più guardare così Ho preso due rossetti per farmi perdonare Un pannello Un po' se i colori ti piacciono C'è, lo so che non è lo stesso Però, c'è, più o meno Bellissimo E questo invece sta tipo al lampone, non lo so Lampone